Ciao ragazzi e benvenuti, sono LeFerry e oggi scopriamo Vampire The Masked Blood Hunt ovvero un nuovo Battle Royale spin-off dell'universo di Vampire The Masked ovvero un RPG con i vampiri, qui però di RPG non abbiamo praticamente nulla poiché come vi dicevo è un Battle Royale a tutti gli effetti, è un free to play sembra in realtà molto più carino di quello che potrebbe pensare qualsiasi persona che non lo conosce per cui evitiamo di scoprirlo assieme, prima però vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piaccia il video lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube al canale Twitch che si chiama Allo Sesso Modo, ovvero LeFerry per scoprire chicche come queste, recessione, approfondimenti e molto molto altro che magari altri canali non vi mostrano benissimo, io direi che possiamo partire con il tutorial piccolissima premessa, lo stiamo giocando su computer, dato che al momento è disponibile esclusivamente qui a impostazioni grafiche quasi al massimo per il semplice motivo che ho dato priorità al frame rate ma comunque cambia veramente poco rispetto al massimo allora, usa i tuoi sensi amplificati per localizzare un mortale di cui cibarti premi X per usare i sensi amplificati e andiamo avanti allora, devo dire che le movenze del personaggio sono molto molto fluide ma lo aspettavo un po' più impacciato invece è bello reattivo e scattante bello, ci sta da questo punto di vista sembra promettere bene cibati di un mortale premi Space per saltare ok tieni premuto per nutrirti whoops ha fatto una brutta fine left control tieni premuto per accucciarti ok Space più W scala oh che figata ecco, questa cosa qua è sicuramente una cosa che non si vede nei battle royale comuni prova a eseguire un salto in scivolata fino a un altro tetto left control più Space wow usi i tuoi sensi amplificati per localizzare un mortale con sangue risonante beh ai mio parere potevano mettere dei sub un po' più grandi e sono veramente indecenti come grandezza boh collerico aumento danni in mischia del 10% prova il tuo pugno onda d'urto premi E per usare il potere archeotipo figo Q premi per usare il potere del clan bello raggiunge l'indicatore per proseguire e ok però interessante allora il movimento è davvero figo secondo me armi ed equipaggiamento qui sotto doppia balestra raccogli cucile a pompa rivoltella cucile a pompa mitraglietrice ok trovo un'armatura consumabile raccogli accede l'inventare con I bene la equipaggiamo 6 no niente accede l'inventare e indosso l'armatura eh lo sto facendo io cioè ci sto provando perlomeno stavo provando 6 ma non funzionava quindi ci ho cliccato sopra ok bene mitraglietrice leggera piccolo calibro grande calibro lame flagellanti mischia bene figo qui cosa abbiamo doppia pistola ok aggiunge l'indicatore per proseguire sono quelli i ceffi ma questa svolta qua action armi da fuoco non me l'aspettavo non giochi di vampiri che figata nutriti dell'entità per ottenere uno spazio risonanza aggiuntivo o finisciola con un'uccisione veloce dando da caduta non c'è spero tu tieni pronto per nutrirti però ma sapete che fucile rapide beh qua apri fucile da cecchino mitraglietta silenziata figo 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 cioè nel senso pensavo fosse una porcata così non è così non è perlomeno sembra dal tutorial perché effettivamente non trovo particolari difetti ok manca il carisma ovviamente della parte rpg del gioco però però allora non sferato seleziona un archetipo cacciatore silenzioso il sabotatore si muove fra le ombre e utilizza meccanismi difensivi per punire i nemici spericolati brutto il brutto difende i suoi alleati e tiene a bada i nemici vandalo picchiatore spericolato tramite il pugno dei vandali viene incannata una forza immensa che permette loro di affrontare gli scontri da vicino con una resistenza potenziata e una forza devastante sabotatore l'abbiamo letto prima ragazzi vagabondo poiché controlla le creature della natura tanto quanto la bestia dentro di lui il vagabondo ha un'abilità senza pari nel seguire e svelare i propri nemici sirena mi aspettavo una ragazza bella le sirene sono sempre alle ricerche di opportunità per accecare i nemici con la semplice vista della loro bellezza musa quando gli alleati vacillano la musa corre in soccorso li spinge a rigettarsi nella mischia con la sua canzone incantata allora guardiamo un attimo salto sovrumano grinta il brutto ripresta una fine a metà della sua salute mentre non subisce danni scatena non da durta è in grado di deviare proiettili ok vandalo shock terrestre balza in avanti e atterra con violenza infliggendo danni e facendo cadere i nemici botte di adrenalina salto sovrumano svanire diventa invisibile e muoviti rapidamente per breve tempo passaggio inosservato diventa semi invisibile quando ti accucci bomba fognaria lancia una bomba che esplode e rilascia un gas tossico quando un nemico vi si avvicina vagabondo analisi famulus invia pipistrelli per analizzare una zona e svelare temporaneamente i nemici al di là dei muri fiuta la preda i nemici gravemente feriti lasciano tracce che svelano i loro ultimi spostamenti svanire diventa invisibile e muoviti rapidamente per breve tempo sirena proiezione scatto invia una tua proiezione verso cui puoi scattare fascino a fine i civili nelle vicinanze vengono incantati diventano temporaneamente amichevoli nei confronti tori e della tua squadra bellezza accecante esplode lentamente nella bellezza pura accecando e danneggiando tutti i nemici nelle vicinanze musa voce ringiovanente entra in una condizione ricostituente che cura te e i tuoi alleati nelle vicinanze quando è canalizzata se subisci danni usi il potere mentre la canalizza la condizione curativa si interrompe atto finale alzare istantaneamente il conto e la rovescia delle tue abilità e abilita l'uso dei poteri mentre sei a terra proiezione scatto invia una tua proiezione verso cui puoi scattare allora ovviamente brutto salto sovrumano grinta e pugno onda durto questo qua mi spiera di più ragazzi entra nell'elisium e vediamo un po' cosa possiamo fare probabilmente adesso ci catapultano in una partita reale insomma spero l'accesso anticipato all'inizio si perché questo non ve l'ho detto prima ma questo gioco ragazzi è in early access quindi significa che è disponibile ad essere giocato ma in realtà deve essere ancora implementato migliorato ampliato eccetera eccetera quindi di fatto non è da considerarsi come la versione finale del gioco non è da considerarsi come un gioco completo bensì un gioco work in progress è molto importante come cosa eh fratelli il nostro viaggio prosegue con il lancio dell'accesso anticipato per Blood Hunt unisciti a noi per mettere alla prova il gioco e i server con nuove funzionalità test di rete dal 7 al 13 settembre manutenzione ritorno in attività 15 settembre ok chiudi allora vediamo un attimo livello 1 è gratis sfide giornaliere pronto F1 cambio in modalità F2 facciamo in solitaria vediamo un attimo pronto F1 vai vediamo un po' principi di sopravvivenza se tu vuoi sopravvivere alla notte devi armarti evita il gas rosso letale in avvicinamento attorno a te il gas rosso letale ok quando si restringe l'area cibati di sangue risonante per accrescere il tuo potere questo è il danno corpo a corpo evita di infrangere la mascherita o verrà indetta una caccia di sangue nei tuoi confronti eh già perché quando noi spaventiamo i mortali veniamo segnalati agli altri tutta la tua abilità e la tua astuzia e un pizzico di fortuna per ottenere la vittoria victory bene 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 ok ok annulla stiamo cercando una partita direi infliggi danno ad altri giocatori con qualsiasi arma da mischia 3500 punti esperienza danno ad altri giocatori con qualsiasi arma a distanza usa un tipo specifico di disciplina clan ok la partita inizia quando mappa a praga benissimo allora devo dire che a trovare la partita ci ha messo veramente veramente poco è stato molto più lungo in realtà il caricamento per entrare nella partita però va bene evidentemente un po' alla volta miglioreranno il matchmaking allora fuori dai limiti decidiamo un punto di generazione qua va bene farmacia sartoria negozio di antiquariato entità entità che cosa sono le entità punto di domanda punto di arrivo bloccato va bene ok vediamo un po' il da farsi scegliamo il brutto come vi dicevo prima e ha giudicato il mio brutto ah no stavo cercando di capire se c'era tipo un livello magari ma non mi pare l'apparenza credo sia casuale o perlomeno non possiamo personalizzarla in partita magari guardiamo dopo se c'è appunto la personalizzazione molto probabilmente sì anche perché se è un gioco che campa con le skin effettivamente è una domanda che neanche dovrei farmi ecco per cui fate finta che non l'abbia neanche fatta in attesa di giocatori va bene aspettiamo benissimo partiamo ci ha messo altri minuti a farci entrare in partita perché effettivamente tra quando abbiamo deciso di giocare e la giocata è passato un po' di tempo ecco eh evidentemente non è particolarmente affollato per il momento anche perché siamo appunto in una fase di test però 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 non male poteva andare peggio anche poteva andare peggio ho visto cose ben peggiori insomma tieni premuto per nutrirti da 0 10% in meno di ricarica per il punto potere muori vediamo se mi vede quella là in fondo speriamo di no ok tu non vuoi morire vero no perfetto dai 10% in meno di ricarica per il potere salto sovrumano ok perfetto tu vuoi morire sei dai della verità ferma lì perfetto non so onestamente cosa serve nutrirsi degli umani più deboli eh perché quelli particolari ok l'ho capito gli altri non lo so onestamente cazzo ho sbagliato tasto raccogli e raccogli fucile d'assalto e doppietta bene sei tu vuoi morire 0,5 di salute al secondo perfetto più o meno qua intanto vedo che si stanno sbranando un po' tutti cosa c'è lì sopra 28 secondi rimasti vabbè ma io sono già nell'area giusta per cui ok facciamo così mettiamo questo ne abbiamo due ma ce ne serve solo una vedete in basso a sinistra ecco perfetto qui abbiamo un'altra piastra la prendiamo per dopo un'arma corpo a corpo ok io speravo di trovare magari evitalo per sopravvivere va bene munizioni doppia pistola ho preso le munizioni ma non so di che calibro onestamente che cos'è secondo voi il simbolo avrò visto un uomo arancione tipo da qualche parte ma forse forse boh si stanno sparando qua si ah ok qualcuno sta cercando di uccidere credo un mob no cosa fai ma che cazzo per molly per molly porca miseria è troppo veloce ehi la l'ho atterrato noo scatta la che devo ucciderlo cazzo non fare il minchione dai su dove sei ceffo l'ho perso dove è finito l'infame l'ho perso vabbè noi ci mettiamo la corazza perfetto cazzo cazzo a terra ancora dai su vai 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 cosa fa sto bastardo adesso ti mangio cavolo perfetto aia aia aio e sono morto ragazzi sono morto direi aio 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 e niente mi stanno mangiando mi stanno mangiando è andata bene così considerando che è stata la mia prima partita non è neanche andata malissimo insomma ho atterrato uno poi l'ho ucciso sono arrivato al diciassettesimo su 39 si diciamo che non è stata una partita splendida però sicuramente poteva andare peggio abbandona sessione io direi che il gioco in realtà promette molto molto bene allora graficamente è relativamente spartano ok non stiamo giocando a quello veduto in warzone né tantomeno a apex legends però mi sembra che non sia fatto male la progressione però da quello che vedo è esageratamente lenta cioè scusate un attimo io ho giocato a tanti battle royale li ho provati perlomeno alla prima partita solitamente si faceva almeno mezzo livello se non di più qua abbiamo fatto boh un trentesimo di livello con una partita dove ho giocato anche discretamente bene qua ragazzi è chiaramente ok invogliare le persone a comprare il battle pass ma porca Eva è veramente una roba ridicola questa eh spero ovviamente che si stemmino appunto la progressione perché è vergognoso cioè io non sarei invogliato a giocare così tanto per sbloccare delle cose estetiche per esempio troppo 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 poco troppi pochi punti esperienza a parere mio e se anche facciamo le sfide 3500 3500 3500 arriviamo a 10.000 un livello è 30.000 il primo livello è 30.000 non ci siamo a parere mio per quanto riguarda la progressione tutto il resto invece devo dire che secondo me ha il suo perché per cui vedo un futuro relativamente eroso per questo titolo benissimo fatemi sapere cosa ne passate nei commenti iscrivetevi ai canali qui in parte seguitemi nei vari social Twitch compreso Facebook e Instagram e nel frattempo vedete se c'è qualcosa che vi può interessare qui grazie e alla prossima